Così come stava, se ne andò a letta e dalle dole non si apre più. Dunque, signor Pocciotti, da quando è disoccupato suo marito? Tu sapi Cristo! Bisogna più di ricordi che esiste un elemento chiamato tempo. Tempo che si misura con l'orologio, col calendario, col tempo. Il mio marito non ha la testa, io devo lavorare, ci arrangiamo come possiamo. Se le cose vanno così, perché Dio vuole che vanno così, se vanno male, vanno male. E' il punto, lui entra, se ne sta un po' così e poi smesce. Entra in magra con la ragazza. Sì. Ma sua figlia non sa che lui ha preso molto. Lo sa tanto, no? Ma io che ne so di quello che sa lei, di quello che sei, io non lo so, non posso mica dire quello che non so. La ragazza dovrà essere portata via di qua. Va via. Non vorrà. Tra quanto tempo la figlia è chiusa di bere in quelle condizioni? Tra quanto tempo la figlia è chiusa di bere in quelle condizioni? Grazie a tanto tempo.